amici e amiche di sport me benvenuti dai campetti del trocadero per non solo scarpe gm investigation prima giornata del gruppo b del trofeo delle stelle possesso non solo scarpe c'è l'appoggio errato ma poi rimedia schifilliti quadrito prova a controllare riceve ancora il pallone sterza l'attaccante ci prova col mancino avanza gm investigation con doddis prova il tiro col destro pallone che termina al lato prova il destro broccio respinto da schifilliti e poi ci prova doddis che però calcia alto broccio supera un avversario si accentra ce lo scarico per squadrito che prova il destro ancora schifilliti martinez avanza per non solo scarpe c'è lo scarico su canistra che vuole il destro sisti controlla il pallone in aria c'è la giocata su crimi che però perde il possesso recupera allora canistra che carica il destro e porta in vantaggio non solo scarpe riceve sempre canistra che ci riprova ancora pallone che però finisce alto progressione centrale di martinez che ci prova col mancino respinge sisti in corner punizione gm investigation è pronto ad andare ambriano pallone che finisce al lato perde il possesso non solo scarpe occasione per crimi risponde schifilliti doddis prova il mancino a giro che però si spegne sopra la traversa ancora doddis avanza ci riprova in sacca l'uno a uno rivediamo il mancino di doddis che ha superato schifilliti per il pareggio di gm investigation controlla ambriano carica il destro e si impone schifilliti prova ad avanzare non solo scarpe recupera gm investigation prova la conclusione alessandro ambriano palla alta e in avanti non solo scarpe riceve canistra c'è lo scarico per martinez che controlla poi calcia ma è attento sisti e respinge c'è la progressione di doddis che avanza centralmente prova il sinistro punizione non solo scarpe pronto a partire martinez palla che però non centra la porta ambriano punto un avversario si accentra prova il destro che si inzacca per il 2 a 1 di gm investigation dopo doddis c'è anche la firma di ambriano canistra riceve tra le linee supera un avversario prova il destro punizione non solo scarpe va cascoschi col destro ma è in traiettoria assisti sempre in attacco non solo scarpe c'è il suggerimento per canistra che però trova ancora assisti sulla propria strada prova a controllare crisafulli non si intende qui con assisti arriva allora zappala che in sacca il 2 a 2 riceve tra le linee canistra c'è il filtrante nella zona di palladino arriva allora la conclusione di paolo zappala che è respinta alla difesa poi assisti in corner punizione non solo scarpe va col destro canistra pallone fuori e in zona d'attacco non solo scarpe c'è il attacco di palladino che chiude adesso la triangolazione tocco orizzontale per canistra che in sacca il 2 a 3 c'è la rimonta di non solo scarpe rivediamo il tiro di canistra che ha superato sisti riceve broccio che accelera centralmente c'è il tocco per la squadrido il controllo ancora squadrido 3 a 3 torna ancora in parità avanza cascoschi punto un avversario c'è la sterzata poi il filtrante per palladino che in sacca il 4 a 3 rivediamo il tiro di palladino che ha superato sisti possesso gm investigation c'è il passaggio per ambriano che carica il destro e colpisce il palo batte margaresci da corner riceve allora vasi che in sacca il quinto gol di non solo scarpe rivediamo il passaggio di margaresci e poi il movimento di vasi in avanti non solo scarpe riceve margaresci prova il destro ma trova soltanto l'esterno della rete controlla il pallone dodis che prova a far ripartire gm investigation controlla dodis punto un avversario ci prova col sinistro ma risponde schifilliti vasi c'è il suggerimento per canistra che ci prova col destro rispinge sisti poi ancora vasi margaresci riceve supera un avversario in velocità conclude allora col destro rispinge sisti e poi arriva canistra per il tap in vincente del 6 a 3 e finisce così non solo scarpe batte gm investigation per 6 a 3